Il Consiglio di amministrazione della RAI ha deciso a maggioranza il trasferimento ad altro incarico del direttore del Tg1, Augusto Minzolini, dopo il suo rindio a giudizio per peculato. Il Consiglio, su proposta del direttore generale Lorenza Lei, ha approvato la nomina di Alberto Maccari, attuale direttore della Tg1, come direttore ad interim del Tg1 fino al 31 gennaio 2012.